Grazie a tutti. No, no, no. Io li metto, non so, sì, sì, è vero, vero. Ah, ma questa parte secondo me sarà 35-40. Sarò, io ne... Questa parte qui è. Non è 40 mai, se lì verso 30-35. Ah, guarda che... Salta il pattino come freno, qui è? Ok. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.